Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video voglio parlarvi di Rogue Company, spero di averlo detto bene perché con la pronuncia sono una frana. Rogue Company è un multiplayer competitivo online attualmente a pagamento. Dovete acquistare uno dei pacchetti disponibili, però dalla fine dell'anno sarà disponibile anche in free to play, su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch. Non si sa ancora se arriverà, ma spero di sì, su console di nuova generazione. Quindi attualmente potete acquistarlo su tutte le piattaforme, in tre differenti pacchetti. Si parte da 15€. Rogue Company è uno sparatutto in terza persona, nella quale dovrete annientare la squadra avversaria o innescare e disinnescare le bombe. In termini di modalità non è molto generoso, però essendo in accesso anticipato diciamo è più che normale. Partiamo dall'inizio. Il gioco vanta ovviamente delle sfide da completare per ottenere esperienza utile per livellare. Sfide che variano dal vincere delle partite, al partecipare, a annientare i nemici, fare danni, usare uno specifico personaggio e così via dicendo. In modalità abbiamo demolizione, strikeout, pratica sulla demolizione e tutorial. Tutorial non ha bisogno diciamo di presentazioni in quanto illustra tutto quello che c'è da sapere sul gioco. Demolizione e strikeout sono modalità competitive dove bisogna eliminare la squadra avversaria o eliminare barra innescare o disinnescare le bombe della squadra avversaria. Quindi potete decidere se eliminare i giocatori oppure concentrarvi sulle bombe. In una modalità abbiamo un solo rientro in stile battle royale. In un'altra modalità invece abbiamo più rientri. Pratica demolizione è una modalità a mio avviso da elogiare. Perché da elogiare? Perché è la stessa modalità versus ma con i bot. Cioè se non siete pratici del gioco potete giocare in cooperativa con altri contro i bot. Mentre qui in cooperativa con altri contro altri giocatori. Quindi se è la prima volta magari fate pratica con questa modalità competitiva e poi magari vi buttate nel multiplayer. Quindi giocate voi con degli amici o sconosciuti contro dei bot. Andiamo sui personaggi. I personaggi variano in aspetto e in caratteristiche e in equipaggiamenti oltre che abilità. Abbiamo ad esempio Anvil che è esperto in scudi, attacchi caricati. Insomma è un personaggio da sfondamento. Poi abbiamo Shaq che è un personaggio stile ninja. Quindi utilizza abilità stealth, equipaggiamenti e caratteristiche di questo tipo. Poi abbiamo glitch che è il mio preferito che è un personaggio che non è molto forte in attacco ma può diciamo danneggiare, manomettere, agherare i dispositivi tecnologici della squadra avversaria. Quindi risulta un buon personaggio per quanto riguarda la difesa. Cioè dona una mano alla propria squadra. Ogni personaggio come vedete si differenzia in tutto e può essere personalizzato anche se attualmente non vi sono molte cose da scegliere. Abbiamo in futuro la possibilità di scegliere gli outfit, quindi i completi, le skin, i vestiti. I, diciamo, deltaplani che possono essere usati per lanciarsi in battaglia. Premetto che non è un battle royale. Le skin per le armi, le emot, gli spray, insomma tutto quello che ricorda un po' fortnite. E abbiamo il combat loadout. Il combat loadout consiste appunto in vari loadout che possono essere personalizzati secondo le proprie esigenze. Quindi potete scegliere per ogni arma la sua variante che ovviamente differenzia non solo in estetica ma anche in caratteristiche. Quindi potete perdere del tempo scegliendo i perks, le abilità, i gadget, le armi e così via dicendo. Poi abbiamo profilo dove potete vedere il vostro livello, il tempo giocato, le vittorie, le sconfitte, le uccisioni e quant'altro. Premetto che ho provato il gioco su diverse piattaforme e su pc è abbastanza stabile, su console meno. Attenzione per stabile non intendo ovviamente in questione di frame rate perché come frame rate ci siamo bene o male, ma come caricamento è su console a volte imbarazzante, ma non sempre. A volte mi è capitato di aspettare lì minuti e minuti e minuti per trovare una partita o addirittura per caricare la stessa. Però sono questioni isolate, non avvengono sempre. Su pc non ho riscontrato questi problemi. Poi abbiamo store dove si possono acquistare due pacchetti attualmente, da mille monete o 5.000 al costo di 10 euro circa e 40 euro circa. Monete che possono essere spese per sbloccare personaggi ed altri contenuti. Ora attualmente è in accesso anticipato, quindi non vi è poi molto da sbloccare. Si gioca in quattro, quindi voi più altri e tre giocatori contro gli avversari. Questo per quanto riguarda la struttura di gioco. Ora vediamo ovviamente com'è il gioco. Quindi giochiamo una partita di demolizione in modalità pratica, quindi io in cooperativa con altri giocatori contro i bot. Anche se avete personalizzato il loadout del vostro personaggio e avete creato un loadout insomma personale, il gioco inizia con una pistola e con le vittorie dei round, sette in totale per partita, accumulate denaro virtuale da spendere per ottenere nuove armi ed equipaggiamenti, il che fa molto Valorant. Quindi diciamo voi iniziate con la pistola e con poche altre abilità o equipaggiamenti a seconda della vostra scelta e con il progredire delle partite accumulate denaro e al round successivo poi acquistate altro. Quindi nuove armi, nuove perks, nuove abilità e così via dicendo. Le mappe non sono tantissime, sono sette, ma di grandi dimensioni e nonostante siano di grandi dimensioni l'azione si concentra su un punto specifico della mappa. Quindi non è un battle royal che andate dove volete, ma l'azione è delimitata in una piccola zona della mappa in modo da completare le partite in pochi minuti. All'incirca impiegherete un 10-15 minuti per completare una partita composta da sette round. Ovviamente la squadra vincitrice è quella che arriva a sette round o a più round della squadra avversaria il prima possibile. Si vince eliminando la squadra avversaria o innescando o disinnescando la bomba. Si parte sull'aereo, come vedete, io ho solo la pistola e ho 5.000 dollari da spendere. Posso decidere se spenderli subito, ad esempio per avere più danni con i proiettili, o metterli da parte per i round successivi in modo da acquistare altre armi e abilità. Come vedete ci si lancia da un aereo in stile battle royal e si arriva praticamente subito nella mappa di gioco. Le meccaniche ricordano un po' Gears of War, come vedete, come è strutturato. Potete fare la capriola, utilizzare i ripari per coprirvi, scattare e così via dicendo. Ci sono due punti, A e B. Dovete innescare o disinnescare la bomba in uno dei due punti oppure annientare la squadra avversaria. Quindi diciamo lo scopo del gioco è praticamente questo. Ora, essendo in accesso anticipato, i contenuti sono questi, ma nel corso dei prossimi mesi sicuramente assisteremo a altri contenuti, soprattutto con il cambio di rotta in free to play. Quindi diciamo per la fine dell'anno potete giocare gratis. Come vedete sono stati eliminati due giocatori. Eliminando i restanti due la partita si conclude senza innescare o disinnescare le bombe. Quindi diciamo spetta a voi decidere il da farsi. L'energia viene affidata ad un sistema di ricarica automatico. Mettendosi dietro ad un riparo si ricarica in modo graduale. Ora nel secondo round, come potete vedere, ho la possibilità di scegliere un'altra arma. Quindi posso equipaggiarmi un'arma tra virgolette più seria. Questo è tutto per quanto riguarda Rogue Company.